Allora, presidio per il reintegro immediato di Luciano Pasetti. Luciano Pasetti è stato licenziato in modo arrogante, con un pretesto palesemente politico per essersi rifiutato, per aver fatto capire al cliente che non poteva prendergli l'acqua giù da uno scaffale alto 3 metri per via di una limitazione a 7 chili. Tre fardelli d'acqua sono quasi 30 chili. Il responsabile di mercato con un pretesto palesemente politico ha consegnato a Pasetti Luciano la lettera di licenziamento il 4 aprile del 2018. Noi siamo qui in piazza per accogliere le firme contro il licenziamento politico di Pasetti Luciano e contro lo spostamento palesemente discriminatorio degli altri lavoratori da un supermercato all'altro. Questi signori, dopo gli ipermercati, hanno già deciso di prendere tutti i supermercati storici, ex Villa, ex GS, e di terziarizzarli e di cedere tutti quanti i supermercati in ramo d'azienda. Tutti i supermercati, guarda caso, dove c'è il personale con una certa anzianità, dove c'è il personale con una limitazione, dove c'è il personale più sindacalizzato, dove c'è il personale che non accetta di abbassare a testa lo sguardo davanti all'arroganza dei padroni. Noi domani e venerdì 13 faremo i primi banchetti qua davanti al GS di Viale Famagosta. Noi saremo qui e faremo qualsiasi modo per far sì, per alzare ovviamente lo scontro e per far sì che Pasetti e Luciano vengano.